Il centrodestra ha deciso la rosa dei possibili candidati al Colle, Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera. Sono queste le candidature proposte da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, annunciate dal leader del Carroccio, Matteo Salvini, in conferenza stampa. Non c'è una delle papabili della vigilia, la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. Non c'è neanche l'ex ministro degli esteri, Franco Frattini, sul quale Italia Vive e PD avevano messo un veto. Ci sono invece la presidente e assessore del welfare della regione Lombardia Moratti, l'ex magistrato titolare dell'inchiesta sul Mose Nordio, l'ex presidente del Senato sotto Berlusconi Pera. Nomi sicuramente di qualità li ha definiti il segretario del PD Enrico Letta.